Oggi rispondiamo alla nostra prima domanda Che senso ha un mostro che è immune agli effetti attivi del tuo avversario se l'avversario è attiva spada l'irvatrice con il mio mostro immune posso attaccare ugualmente Allora il problema è nella carta scritta in italiano Io ho questa versione qui che dice in fondo il tuo avversario non può dichiarare un attacco ma non è quello che c'è scritto sulla carta Se andate a vedere quella in inglese c'è scritto che i mostri dell'avversario non possono dichiarare un attacco Infatti se un mostro immune ha gli effetti delle carte magia può attaccare attraverso spada rivelatrice ma ad esempio non può attaccare attraverso rugito minaccioso perché questa carta dice il tuo avversario non può dichiarare un attacco quindi tu prendi come bersaglio il giocatore non la carta quindi la carta potrebbe attaccare ma il tuo avversario proprio non può entrare non può dire ok attacco ed è quello il motivo Spero di averci stato utile e ci vediamo al prossimo video